Una mattina, Ilia Illish Oblomov se ne stava a letto, nell'appartamento che occupava in uno di quei casermoni di via Gorociovaya, i cui inquilini sarebbero bastati a popolare un intero capoluogo di distretto. Ilia Illish era un uomo di circa 32-33 anni, di statura media, gradevole d'aspetto, con occhi grigioscuri, ma i tratti del volto rivelavano un'assoluta incapacità di determinazione e di concentrazione. Il pensiero volubile trascorreva senza guida sul suo viso, gli svolazzava negli occhi, si arenava fra le labbra semiaperte, si nascondeva fra i solchi della fronte, poi si dileguava di botto, e allora il volto restava rischiarato solo del vago lucore dell'indolenza. Dalla faccia, l'indolenza si propagava a tutto l'atteggiamento del corpo, addirittura alle pieghe della vestaglia. Di quando in quando, un'espressione che si sarebbe detta di stanchezza o di noia, gli offuscava lo sguardo. Ma la stanchezza o la noia non potevano scacciare nemmeno per un momento l'amitezza, che era la caratteristica essenziale e dominante, non solo del volto, ma di tutta l'anima. E l'anima risplendeva aperta e chiara negli occhi, nel sorriso, in ogni movimento della testa o della mano. Un osservatore distaccato e superficiale, dopo una rapida occhiata a Oblomov, avrebbe potuto dire, deve essere un tipo semplice e di buona pasta. O un osservatore più acuto e partecipe, che lo avesse osservato a lungo, si sarebbe forse allontanato sorridendo, immerso in gradevoli meditazioni. Il colorito di Ilya Ilyich non era né roseo né olivastro, né decisamente pallido, ma smorto. O forse così sembrava, perché Oblomov era troppo floscio, per l'età che aveva e a causa della mancanza di moto e di aria, o probabilmente di entrambi. Nell'insieme, il suo corpo, a giudicare dal colore scialbo e troppo bianco del collo, delle mani piccole e paffute, delle spalle cascanti, appariva eccessivamente femmineo. Anche i suoi movimenti, perfino quando era inquieto, venivano frenati dalla fiacchezza e dalla pigrizia, non priva, nel suo genere, di una certa grazia. Se la nube nera di una preoccupazione saliva dall'anima ad addensarsi sul viso, lo sguardo si offuscava, la fronte si corrugava e dubbio, afflizione e timore iniziavano il loro girotondo. Ma raramente questa inquietudine si coagulava in un'idea precisa e, ancora più raramente, si trasformava in un proposito concreto. Tutta l'inquietudine si risolveva in un sospiro e si estingueva nell'apatia o nella sonnolenza. Come armonizzava l'abito da casa con i tratti sereni del volto di Oblomov e con la mollezza del suo corpo. Indossava una vestaglia di stoffa persiana, una autentica gabbana all'orientale, senza nulla di europeo, senza nappe, senza velluto, senza vita, tanto ampia che Oblomov ci si poteva avvolgere dentro due volte. Le maniche, secondo l'immutabile moda asiatica, andavano allargandosi dalle dita alle spalle. Ma grado avesse perduto l'originale freschezza e la prima naturale lucentezza fosse stata soppiantata qua e là da un lustro d'altro genere, determinato dall'uso, la gabbana conservava pur sempre la vivacità dei colori orientali e la solidità del tessuto. Agli occhi di Oblomov quella gabbana aveva un mucchio di pregi inestimabili. Era morbida, adattabile, non te la sentivi addosso, e si sottometteva il più piccolo movimento del corpo, come un docile schiavo. Oblomov girava sempre per casa senza cravatta e senza panciotto, perché gli piacevano la libertà e la comodità. Le sue pantofole erano lunghe, morbide e larghe, cosicché i piedi, quando egli scendeva dal letto senza nemmeno guardare dove li mettesse, andavano immediatamente a infilarvisi dentro. Per Ilya Ilic, la posizione orizzontale non era una necessità, come per un malato o per chi desideri dormire, né un fatto accidentale provocato dalla stanchezza, né un piacere da individuo pigro. Era il suo stato normale. Quando era a casa, ed era quasi sempre a casa, se ne stava sempre colicato, e sempre nella stessa camera dove lo abbiamo trovato, che gli serviva da stanza da letto, da studio e da salotto. Aveva altre tre camere, ma c'entrava di rado. Magari al mattino e anche questo non tutti i giorni, ma solo quando gli rassettavano lo studio, il che non capitava spesso. In quelle stanze i mobili erano coperti con le fodere e le tende abbassate. A prima vista, la camera in cui Ilya Ilic se ne stava astraiato, sembrava molto ben arredata. C'erano uno scrittoio di mogano, due divani ricoperti di seta, bei paraventi su cui erano ricamati uccelli e fiori mai visti in natura. E c'erano tendaggi di seta, tappeti e alcuni quadri, bronzi, porcellane e un'infinità di graziosi ninnoli. Ma l'occhio esercitato di una persona di buon gusto avrebbe scorto in quell'insieme nulla più che il desiderio di mantenere alla meno peggio il decorum imposto dalle convenienze, pur di levarsi il pensiero. Senza dubbio, solo questa era stata la cura di Oblomov al momento di arredare lo studio. Un padrone di casa del gusto raffinato non si sarebbe contentato di quelle sedie di mogano, pesanti e sgraziate, di quegli scaffali traballanti. Lo schienale di un divano aveva ceduto e il legno si era scollato in parecchi punti. Quadri, vasi e ninnoli erano nelle identiche condizioni. Lo stesso padrone, peraltro, guardava l'arredamento del suo studio con occhio freddo e indifferente, come a chiedersi chi ha trascinato e ammucchiato qua tutta questa roba. Forse perché Oblomov considerava i suoi beni con tanto distacco, e forse perché il suo servitore Zakar li considerava con distacco ancora maggiore, l'aspetto del suo studio a guardarlo con più attenzione colpiva per il disordine e la trascuratezza. Ragnatele cariche di polvere, pendevano a guisa di festoni dalle pareti vicino ai quadri. Gli specchi erano tanto polverosi che, invece di riflettere gli oggetti, avrebbero potuto servire come tavolette su cui annotare le cose da non dimenticare. I tappeti erano pieni di macchie. Sul divano era abbandonato un asciugamano. Al mattino era un caso raro non trovare sul tavolo, non spacchiato la sera prima, il piatto, la saliera, un osso rosicchiato e briciole di pane un po' dovunque. Se non fosse stato per questo piatto e per la pipa ancora calda posata sul letto, e per lo stesso padrone che stava dentro il letto, si sarebbe potuto pensare che in quella casa non vi avesse nessuno, tanto le cose erano polverose e scolorite, e non lasciavano intuire una sola traccia di presenza umana. È vero che sugli scaffali c'erano due o tre libri aperti e un giornale spiegazzato, e che sullo scrittoio c'era il calamaio con le penne, ma le pagine a cui i libri erano aperti erano velate di polvere e ingiallite. Prova evidente che i volumi erano stati buttati lì da un pezzo. Il giornale era dell'anno prima, e se si fosse intinta la penna nel calamaio, forse ne sarebbe uscita solo una mosca ronzante di paura. Ilia Illis si era svegliato molto presto, contro le sue abitudini, verso le otto. Una preoccupazione lo affliggeva. Sul suo viso si alternavano paura, malinconia e stizza. Era visibilmente in preda a una lotta interiore, e l'intelletto non lo soccorreva. Il giorno prima, Oblomov aveva ricevuto dall'ostarosta del suo villaggio una lettera del contenuto sgradevole. Sono note le cose sgradevoli che può scrivere uno starosta. Cattivo raccolto, arretratti da pagare, introiti ridotti e via dicendo. È vero che l'anno precedente, e quello prima ancora, Oblomov aveva ricevuto dall'ostarosta lettere identiche, ma quest'ultima lo aveva colpito in maniera profonda. Come accade sempre, per una spiacevole sorpresa. Era forse una faccenda da prendere alla leggera. Doveva pensare al più presto ai provvedimenti da adottare. Riguardo alla sollecitudine di Ilia Eilici per i propri affari, bisogna paire indagli il dovuto. Già alcuni anni avanti, quando aveva ricevuto la prima lettera spiacevole dell'ostarosta, aveva cominciato a pensare a un piano di trasformazioni e miglioramenti vari per riordinare l'amministrazione della sua proprietà. Il piano prevedeva le introduzioni di nuove misure economiche, di polizia e di altro genere. Ma il piano era ancora ben lungi dall'essere perfezionato, e le lettere spiacevoli dell'ostarosta si ripetevano ogni anno. Lo spronavano ad agire e di conseguenza gli turbavano la pace. Oblomov si rendeva conto che, prima ancora di avere messo a punto il piano, avrebbe dovuto intraprendere qualcosa di decisivo. Appena sveglio, si era riproposto subito di alzarsi, di lavarsi e bevuto il tè, di mettersi a pensare con impegno, di scovare qualcosa, prendere appunti, in sostanza, di occuparsi della faccenda come si conveniva. Rimase a letto un'altra mezz'ora, macerato da questi propositi, ma poi riflette che avrebbe avuto ancora tempo dopo il tè, e che il tè avrebbe potuto prenderlo a letto, come al solito, tanto più che niente impedisce di pensare anche stando sdraiati. Così fece. Dopo il tè, si tirò su, e poco mancò che non si alzasse. Guardando le pantofole, cominciò perfino a far scivolare una gamba giù dal letto, ma subito la ritirò. Suonarono le nove e mezza. Ilya Eilich trassalì. — Ma insomma, cosa sta facendo davvero? disse stizzito ad alta voce. — Un po' di coscienza. È ora di mettersi al lavoro. Basta volere e... — Zakar! gridò. E la stanza, separata dallo studio di Ilya Eilich solo da un piccolo corridoio, si udì dapprima come un ringhio di cane da guardia, poi il tonfo di piedi che atterravano dall'alto. Era Zakar, che era saltato giù dalla panchetta sporgente dalla stufa, sulla quale di solito passava il tempo sonnecchiando. Nello studio entrò un vecchio, che indossava una specie di finanziaria grigia, con uno strappo sotto l'ascella, dal quale faceva a capolino un pezzo di camicia. Anche il panciotto era grigio, con bottoni di rame. L'uomo aveva il cranio nudo come un ginocchio e un paio di enormi scopettoni, folti, rossi e brizzolati, ognuno dei quali sarebbe bastato per tre barbe. Zakar, come non faceva nulla per modificare l'aspetto esteriore datogli da Dio, così non si curava di mutare l'abito che usava in campagna, un vestito che si era fatto confezionare su un modello portato dal paese. La finanziaria e il panciotto grigi gli piacevano, anche perché quella specie di semi uniforme gli ricordava vagamente la livrea che indossava nel tempo lontano, in cui accompagnava i defunti padroni in chiesa o per le visite, e la livrea, nei suoi ricordi, era l'unica cosa che rappresentasse la dignità di casa oblomo. Ormai niente altro gli ricordava la vita signorile, agiata e tranquilla, trascorsa in quello sperduto villaggio. I vecchi padroni erano morti, irritati di famiglia erano rimasti nella casa, e certo erano andati a finire in qualche angolo della soffitta, le storie riguardanti il tempo andato e l'importanza della famiglia morivano o vivevano solo nel ricordo dei pochi vecchi del villaggio che erano ancora rimasti. Per questo la finanziaria grigia era cara a Zakhar, che in essa vedeva ancora i palli di segni della passata grandezza, come li vedeva in qualche tratto conservatosi nel viso e nei modi del padrone, i quali ricordavano i genitori e nei capricci contro i quali il vecchio brontolava dentro di sé ad alta voce, ma che al tempo stesso rispettava in cor suo, come manifestazione della volontà e del diritto del padrone. Senza quei capricci si sarebbe sentito come senza padrone. Senza di essi nulla gli avrebbe ramentato la sua giovinezza, il villaggio che aveva lasciato tanto tempo addietro, e le storie dell'antica dimora, le uniche cronache conosciute da vecchi servitori, balie e governanti che le tramandavano di generazione in generazione. Un tempo la famiglia Oblomov era stata ricca e nota nella regione, ma poi, Dio sa perché, era diventata sempre più povera, era decaduta e da ultimo, da poco a poco, aveva finito per confondersi con le casate di nobiltà recente. Solo i servitori, con i capelli ormai bianchi, conservavano e si tramandavano l'un l'altro il ricordo fedele del passato, che avevano caro come una reliquia. Ecco perché Zakar era tanto affezionato alla finanziera grigia, forse teneva anche gli scopettoni perché nella sua infanzia aveva visto molti vecchi servitori con questo antico e aristocratico ornamento. Ilia Illich, sprofondato nei suoi pensieri, per un pezzo non si accorse di Zakar, che dopo essersene rimasto fermo davanti a lui in silenzio, alla fine tossicchiò. «Che vuoi?» chiese Ilia Illich. «Ma se mi avete chiamato...» «Chiamato? Perché ti ho chiamato?» «Non ricordo», fece Ilia Illich stiracchiandosi. «Vattene di là finché non mi verrà in mente». Zakar se ne andò e Ilia Illich rimase a letto a pensare a quella dannata lettera. Passò circa un quarto d'ora. «Su, basta stare a letto», disse Ilia Illich. «Bisogna proprio alzarsi. Ma dopo tutto sarà meglio che rilegga ancora una volta con attenzione la lettera dell'ostarosta e poi mi alzerò davvero. Zakar!» Di nuovo il tonfo è un ringhio più forte. Zakar entrò, ma Oblomov era di nuovo immerso nelle sue meditazioni. Zakar rimase lì fermo un paio di minuti guardando il padrone di traverso con occhio malevolo e alla fine si avviò verso la porta. «Bisogna proprio alzarsi.